Settembre 1916, è l'alba nelle trincee. I soldati tedeschi della 4ta divisione bavarese scrutano la pioggia di proiettili, aspettano l'attacco britannico. È il 75esimo giorno della terribile battaglia della Soma. In questo giorno, nonostante il picchiettare della pioggia, il conflitto stagnante fu cambiato per sempre. Delle indistinte sagome scure emersero dal fumo e dalla nebbia, oltrepassando il filo spinato, arrivando sopra le trincee e vuotando cannoni e mitragliatrici contro i soldati tedeschi che fuggirono terrorizzati. Le truppe britanniche li inseguirono e per la prima volta da mesi riuscirono ad avanzare. Lo stallo delle trincee era stato rotto e i tedeschi furono lasciati a riflettere sul nuovo nemico spaventoso che era appena apparso, il carro armato. Come poteva sopravvivere un semplice soldato? Le normali armi in dotazione non servivano. Fucili, pistole o mitragliatrici, nessuno aveva la forza di fermare i carri armati del 1916 senza considerare i carri armati del dopoguerra, potenziati. Serviva un'altra arma. Fucili, pistole o mitragliatrici, Fin dal tempo dei moschetti, una vasta gamma di armi sono state inventate per contrastare i nemici che il soldato non poteva raggiungere con la fedele pistola. Nemici nascosti sul fondo delle trincee, nelle fortificazioni, dietro colline o case, protetti da acciaio e cemento, terra e pietre. Le cosiddette armi di supporto dei soldati sono molto più di questo. Razzi e mortai, lanciafiamme e granate sono la chiave per la sua sopravvivenza. A partire dalla metà del XIX secolo, ogni soldato aveva un fucile che gli dava la possibilità di colpire un bersaglio a circa 900 metri, se non di più. Aveva possibilità di azione in tal senso. Per renderlo ancora più efficiente, si doveva dotarlo anche di altre armi. Qualsiasi cosa che potesse essere usata per attaccare un nemico celato dietro un riparo, come ad esempio una granata, era un vantaggio. Quando si arriva alla Prima Guerra Mondiale, qualunque cosa che possa dare la capacità di attaccare e fermare un carro armato, una delle maggiori minacce, rappresenta un vantaggio. Gradualmente vediamo soldati equipaggiati con sempre più armi o con armi modificate per servire più di uno scopo da usare in ogni momento della battaglia. Quando i carri armati comparvero per la prima volta nel 1916, il comando tedesco non si preoccupò più di tanto. Del resto erano grandi, lenti e si rompevano sempre. I proiettili e qualche colpo d'artiglieria potevano bastare. I carri armati in movimento apparivano grandi e pericolosi, ma la maggior parte si rompeva. Si muovevano così lentamente che qualunque pezzo di artiglieria poteva essere spostato per poterli colpire. E naturalmente la corazza era sufficientemente sottile perché le munizioni potessero trapassarla. Quindi si pensava ancora che ogni fucile anticarro bastasse prefronteggiarli. Il massiccio uso di carri armati a Cambrai e a Damien sfatò questo mito e la guerra si concluse nel 1918 prima che fosse messa a punto un'adeguata arma anti-carro armato per i poveri soldati di fanteria. Negli anni del dopoguerra si fecero pochi progressi. Tutte le nazioni sperimentarono dei fucili anticarro come i fucili British Boys. Sparando proiettili di circa un centimetro e mezzo di diametro questi mostri avevano più possibilità di slogare la spalla che non di fermare il carro armato. Questi fucili anti-carro armato andavano bene per la Prima Guerra Mondiale ma non più per la Seconda. Non erano abbastanza potenti per una corazza più spessa. Nel 1939 la corazza dei carri armati era già spessa 30 mm o più e sarebbe raddoppiata o triplicata durante la Seconda Guerra Mondiale. I fucili anti-carro non erano efficaci. Il problema principale, a parte il peso, stava nel rinculo. Ci si poteva rompere una clavicola sparando con uno di questi fucili. Erano molto potenti e rinculavano molto. Per questo non furono armi popolari. Non erano efficaci contro i carri armati e presto furono impiegati per altri scopi. Ficero la loro comparsa anche cannoni anti-carro ma erano armi che necessitavano di una squadra. non al seguito della fanteria e troppo spesso nel posto sbagliato. Se si trovavano a fronteggiare tonnellate di acciaio che avanzavano verso di loro i fanti volevano delle armi in grado di fermare i carri armati che potessero portare sempre con sé. La Seconda Guerra Mondiale portò ad una crisi. I carri armati tedeschi occuparono la Francia e nel 1940 la Gran Bretagna dovette affrontare i Panzer con tutti i suoi cannoni dislocati sull'altra sponda della manica. La situazione del 1940 fu ovviamente una situazione di crisi. Gli inglesi avevano sviluppato dei fucili anticarro e dei cannoni leggeri ma erano stati lasciati a Dunkerque con tutto il resto. Avevano appena avuto la dimostrazione di quanto i carri armati potessero essere decisivi con lo sfondamento di Sedan nel 1940 e la conseguente avanzata lampo della Germania che aveva causato la sconfitta della Francia in soli 38 giorni. C'è una situazione realmente critica. Gli inglesi devono trovare rapidamente un modo per contrastare i carri armati. Tempi stretti portano a soluzioni disperate. Un manuale di addestramento dell'esercito suggeriva di fermare i Panzer disponendo delle sbarre lungo la strada celate sotto delle coperture. All'approssimarsi del carro armato gli uomini dovevano correre a sollevare le sbarre per incastrarle nei cingoli del carro armato. Quando il comandante del mezzo catturato avrebbe aperto la torretta per vedere cosa stava succedendo una bomba a mano nel portello avrebbe completato l'opera. Un po' più seria era la bottiglia Molotov. Chiamata come un politico russo e usata per la prima volta nella guerra civile spagnola era semplicemente una bottiglia riempita per metà di petrolio e tappata da uno straccio imbevuto di petrolio. Accendere lo straccio e lanciarla così da farla rompere contro il carro. Con un po' di fortuna il carro sarebbe bruciato. Sebbene immatura come soluzione si tratta di un'arma che può essere improvvisata su quasi tutti i campi di battaglia. I prolungati assedi delle città russe videro un massiccio uso di queste armi. Le strade strette e gli edifici alti fornivano un terreno perfetto per la distruzione dei carri armati senza spazio di manovra o bersagli molto lontani ma schiere di edifici dove ogni finestra offriva una posizione ideale dalla quale lanciare la bottiglia in fiamme. La facilità d'uso e la reperibilità dei materiali necessari preannunciarono l'uso prolungato di quest'arma da parte dei gruppi di ribelli di tutto il mondo. Queste erano comunque misure di emergenza. In realtà serviva un'arma capace di sparare un missile di grossa taglia circa 5-7 centimetri di diametro capaci di mettere fuori combattimento un carro. C'era comunque un problema. Il rinculo quando sparava. Aumentando la misura di un proiettile da fucile il colpo o il rinculo dello sparo è troppo forte per poter essere assorbito dal corpo umano. La massa principale di ogni cannone è occupata da una grande camera idraulica che assorbe il colpo quando si spara. Come può un uomo sparare un proiettile della grandezza di quelli di artiglieria senza farsi male? La soluzione arrivò dal grande scienziato del XVII secolo Sir Isaac Newton. Azione e reazione sono uguali ed opposte ha detto. Se una carica è sparata all'indietro da una pistola nello stesso momento in cui la carica principale spara in avanti le due reazioni di rinculo si cancelleranno a vicenda. La pistola non scatterà ma resterà ferma. Nasceva così la principale arma moderna dell'affanteria un tubo cavo aperto da entrambi i lati posizionato sulla spalla. Un proiettile è piazzato nell'apertura frontale e la sua carica esplosiva è detonata da un percussore o elettricamente. La spinta in avanti del proiettile è bilanciata dal getto di fiamma che esce da dietro e non c'è alcun rinculo. Fu un uomo dell'artiglieria inglese il tenente colonnello Blacker a disegnare quest'arma conosciuta come Piat creata come un'arma senza rinculo che sparava una granata sarebbe stata l'arma personale anticarro degli inglesi per i dieci anni successivi. Sebbene il suo creatore voleva che la Piat non avesse rinculo il metodo di ricarica in realtà scaricava parte della forza dell'arma su chi sparava e creava problemi nell'uso. Era un pesante tubo d'acciaio con un pesante disco metallico imbottito e la ragione di ciò era nel fatto che sparava un proiettile con una molla molto simile alla molla di una balestra sottoponendo la persona che usava l'arma a un rinculo incredibile era molto sgradevole sparare sparava questo proiettile pesante che pesava circa mezzo chilo sparava questo proiettile che una volta esploso poteva accelerare la sua stessa spinta. Il problema del Piat stava nella cattiva progettazione prima si doveva armare la molla all'interno e per farlo si doveva stare in piedi cosa mai ottimale su di un campo di battaglia specialmente quando c'è un carro armato in avvicinamento. Quando si sparava la molla interna era spinta indietro dalla forza di reazione per riarmare la molla stessa ma se non si riusciva a resistere al rinculo la molla non si riarmava. Di conseguenza ci si doveva alzare per sparare di nuovo per questa ragione era poco pratico. Non era piacevole sparare con quest'arma a causa del rinculo e non aveva un raggio così ampio era progettato per sparare ai carri alla distanza relativamente breve di 100 metri sebbene in teoria potesse essere usato fino a 300 metri per sparare contro edifici e simili. Fu il colonnello Skinner negli Stati Uniti a compiere il nuovo passo cruciale. Skinner era stato affascinato dai missili. Nel 1942 anche lui concepì l'idea di un tubo aperto ma stavolta il proiettile non era una granata ma un razzo sparato elettronicamente. Nei suoi esperimenti perfino i generali riuscirono a colpire bersagli mobili e si iniziò una grande produzione. Per il 1945 ne furono realizzati mezzo milione e il lanciamissili M1 da 2,6 pollici divenne famoso come bazooka da allora nome popolare di quest'arma. Il nome derivava da una battuta di un comico americano Bob Burns. Il Piat e il bazooka presentavano ancora dei problemi. Nessuno dei due poteva sparare un proiettile abbastanza veloce da penetrare la spessa armatura di un carro armato perché tre quarti della spinta venivano dispersi per neutralizzare il rinculo. La soluzione venne da una vecchia scoperta fatta mezzo secolo prima. Se l'esplosivo sul davanti di una granata è parzialmente scavato per produrre una cavità l'esplosione si concentrerà sul lato posteriore invece di disperdersi in tutte le direzioni. Così si avrà una forza di penetrazione maggiore. Il vantaggio della carica adattata come fu chiamata stava nel rendere ininfluente la velocità del proiettile o della granata. Si poteva quasi camminare fino al carro e piazzare la carica a mano. Se si modella una carica per renderla concava non un blocco solido ma se se ne toglie un pezzetto così da ottenere una superficie concava e si detona l'onda d'urto si muove in avanti ed è ristretta non va in tutte le direzioni è focalizzata in avanti e questo significa che la maggior parte della capacità esplosiva arriva contro l'armatura. Il principio della carica dalla punta scavata è che deve scaricare la sua energia direttamente sul bersaglio che va a colpire così quando colpisce l'armatura la forza è diretta dal proiettile con il giusto angolo all'armatura piatta. Se si colpisce una superficie curva non si ha la stessa forza di trasferimento di energia non si ha questo effetto penetrante o qualcosa della stessa intensità quindi la contromisura per la carica adattata era usare un'armatura curva o modellata per deviare l'arma. Inoltre fu scoperto che se una carica adattata colpiva un materiale esterno una seconda pelle o pelle esterna esauriva la sua energia su di essa e arricava scarso danno all'armatura interna così alla fine della seconda guerra mondiale ci sono dei veicoli dotati di una leggera parete esterna come protezione contro la forza esplosiva di queste cariche adattate. Alcuni veicoli sono dotati perfino di una rete metallica che causa una prematura esplosione del proiettile che non danneggia il metallo dell'armatura. Il bazooka e le pistole senza rinculo furono sviluppati entrambi nella seconda guerra mondiale per essere usate dalla fanteria. Portate facilmente da un uomo davano al soldato non solo un'arma contro i carri o i veicoli armati in generale erano efficaci anche contro edifici e fortini ed erano economiche e semplici da usare ma avevano anche degli svantaggi erano precise solo ad una distanza pericolosamente ravvicinata dai 100 agli 800 metri e creavano un potente scoppio posteriore che rivelava la posizione del soldato e rendeva pericoloso usarli in spazi circoscritti. se si spara con una di queste armi un bazooka o la versione tedesca si deve fare attenzione che nessuno si trovi dietro e che non ci siano ostruzioni che possano direzionare le fiamme verso chi spara serve una certa dose di attenzione per usarle c'era solo questo inconveniente altrimenti era l'unico modo intelligente di lanciare queste testate modellate senza un rinculo enorme dopo la seconda guerra mondiale entrambe le armi furono migliorate nel 1943 la Germania introdusse il Panzerfaust il primo bazooka usa e getta il Panzerfaust che poteva essere usato da un solo uomo era un lanciarazzi per queste testate modellate e ne furono prodotti milioni circa 7 milioni di esemplari ed erano disponibili per ogni fante se necessario erano armi a colpo singolo un'arma così semplice da usare da non dover istruire le truppe sull'utilizzo bastava stampare le istruzioni sulle munizioni come caricarle come posizionarle e come sparare erano molto efficaci semplicemente perché erano usate a una distanza ravvicinata un singolo soldato poteva alzarsi di fronte a un carro armato nemico e sparare si dimostrarono estremamente efficaci in tutte le battaglie specialmente quelle russe e potevano arrivare rapidamente in gran numero alle truppe non addestrate erano una versione molto versatile delle testate modellate essenzialmente una testata curvata inserita in uno stretto tubo e sparata con una cartuccia era semplice da usare leggere a immortale fino a una distanza di 60 metri la semplicità del Panzerfaust era il suo vantaggio principale le brigate della gioventù hitleriana ragazzi a partire dai 12 anni furono armati con i Panzerfaust per difendere Berlino l'altra arma a disposizione dei soldati tedeschi nel periodo della seconda guerra mondiale era il Panzerschreck coppia fedele del bazooka americano e ugualmente efficace il Panzerfaust comunque avrebbe lasciato un esempio di semplicità e disponibilità che avrebbe influenzato le future armi anticarro un diretto antenato dello sviluppo russo degli anni 60 che insieme al fucile automatico Kalashnikov sarebbe diventato l'arma popolare della moderna guerriglia fu l'RP7 lanciarazzi espulso dal tubo di lancio con una cartuccia il motore del razzo si accendeva conferendogli maggiore gittata e velocità ma rimaneva ancora un problema la precisione di queste armi era scarsa specialmente alle grandi distanze che i soldati richiedevano la Gran Bretagna gli Stati Uniti e la Russia adottarono la stessa soluzione basandosi sulle scoperte tedesche della seconda guerra mondiale il tubo di lancio ora sparava un missile dal quale partiva un lungo filo che si svolgeva in direzione del soldato un semplice joystick trasmetteva le correzioni al filo e delle alette estensibili correggevano la traiettoria del missile guidandolo verso il bersaglio chiamato Milan dagli inglesi Tao dagli americani e Sager dai russi sparava un missile che pesava circa 7 chili ad una distanza di 3 chilometri con una forza di penetrazione nell'armatura di 60 centimetri ma chi sparava doveva tenere sotto controllo il bersaglio per l'intero percorso del missile 15-20 secondi e non era facile con il carro armato che sparava contro un'arma più piccola e più a portata di mano fu sviluppata per l'esercito americano l'arma anticarro leggera o LOW fornita in grandi quantità alle truppe NATO le armi LOW erano piccole e sufficientemente leggere per integrarsi con l'equipaggiamento di una squadra senza un grande impatto l'aumento del potere d'attacco dei veicoli fortificazioni edifici e carri rendeva il singolo soldato una minaccia per qualsiasi cosa incontrasse semplice nella progettazione l'arma compatta è montata usata e quindi gettata via una soluzione quasi perfetta per i bisogni dei soldati fin tanto che il missile colpisce il bersaglio la generazione seguente delle armi personali avrebbe affrontato quest'ultimo problema sparare dimenticando i sistemi basati sia sulle immagini termine che sui raggi laser e agganciare il sistema al bersaglio prima di sparare e tenerlo fisso su di esso i comandanti dei carri armati stanno già chiedendo delle armature migliori e un attivo supporto della fanteria ma questo potrebbe non bastare a salvare i migliori carri armati da battaglia dai soldati ora bene equipaggiati i moderni soldati della fanteria hanno un equipaggiamento ed un potere di fuoco che sarebbero stati impensabili per un fante della seconda guerra mondiale viaggia in un veicolo potente come diversi carri armati lui stesso è in grado di comunicare con la sua squadra in modi che perfino la generazione precedente non poteva usare ha una radio personale che gli permette di parlare attraverso le pareti le coperture gli angoli nascosti con gli altri membri della sua squadra questa è una forza molto più grande di quanto riusciamo a comprendere la possibilità di dire qualcuno sta arrivando alle nostre spalle e di essere ascoltati dalle persone nella stanza accanto è molto importante perché quella preparazione coi pochi secondi danno la possibilità di vincere una squadra britannica ha una grande quantità di potere di fuoco e la possibilità di sparare automaticamente in dotazione ha pistole da 2 mm due armi leggere i due lanci a granate e soprattutto la possibilità di avere la giusta combinazione per il bersaglio voglio dire che possono operare in tutti i vari conflitti che un soldato moderno si trova a dover affrontare i missili come il bazooka sono armi da guerra molto vecchie furono usati nell'assedio di Costantinopoli nel 1457 e contro gli inglesi nell'India del XVIII secolo non meno vecchia è la successiva arma della fanteria il mortaio infatti il mortaio per alcuni versi è molto antico un ritorno al XV secolo in netto contrasto con le moderne armi tecnologiche rigate a retrocarica spesso chiamato artiglieria dei fanti il mortaio si carica dalla bocca ha una canna liscia non rigata e ha più in comune con un cannone del XVIII secolo che non con le armi usate da un esercito moderno eppure tra i sistemi a guida laser e quelli di sparo incredibilmente rapidi usati sui campi di battaglia moderni il primitivo mortaio ha tutte le carte in regola per essere inserito nell'equipaggiamento dei soldati moderni i mortai sono vecchi quanto l'artiglieria della polvere da sparo furono creati nello stesso periodo dell'artiglieria ed erano chiamate bombarde furono popolari per un po' lanciando pietre o palle di cannone da 30 pollici all'interno delle città assediate erano molto grandi pesanti e lenti da trasportare quando la normale artiglieria si sviluppò nel XVII secolo caddero in disgrazia nonostante un breve ritorno negli assedi della guerra di Crimea e della guerra civile americana la moderna storia del mortaio inizia nelle trincee della prima guerra mondiale questa guerra vide una situazione unica nella storia militare decine di migliaia di nemici sparsi nella campagna distanti solo poche centinaia di chilometri ma incapaci per la maggior parte del tempo di raggiungersi a vicenda i proiettili dalla traiettoria piatta e le granate non penetravano nelle profonde trincee che proteggevano gli eserciti c'era l'obice un pezzo d'artiglieria che lanciava una granata che si alzava nell'aria prima di ricadere con un angolo preciso ma era troppo grande per entrare nelle trincee di prima linea il mortaio era adatto e dal 1915 da entrambe le parti ce n'erano a migliaia il mortaio è un'arma che risale ai tempi della polvere da sparo e della guerra d'assedio è un'arma che proietta una bomba che esplode in aria in modo da ricadere dall'altra parte tra le difese nemiche all'interno delle mura o nelle profonde trincee per questo è qualcosa che inevitabilmente torna in uso durante la prima guerra mondiale ha anche altre potenzialità oltre alla semplice espulsione di una bomba piccoli mortai come quelli inglesi da due pollici della seconda guerra mondiale si possono usare per illuminare la zona lanciando un razzo in aria cosa molto utile se ci si trova in posizione di difesa e si cerca di vedere da dove arriva l'attacco e dove sono i carri armati nemici si può anche usare per sparare fumo così da avere l'opportunità di alzare una densa cortina fumogena perché si stanno sparando bombe più grandi di quelle della fanteria e anche ad una distanza maggiore si tratta di un'arma dalle varie applicazioni molto semplice e robusta economica da realizzare e che fornisce alla fanteria molteplici abilità aggiuntive il grande vantaggio del mortaio sta nel fatto che è trasportabile può essere fatto funzionare da due o tre persone e può essere spostato in fretta l'artiglieria è solitamente statica non può avanzare con l'attacco i mortai possono essere portati avanti con la linea del fronte e usati per aiutare e difendere le truppe d'attacco della prima linea il mortaio britannico progettato nel 1915 da Sir Wilfred Stokes era un semplice tubo cavo 8 cm di diametro posizionato su una base metallica era puntato con un semplice mirino e direzionato lentamente verso il nemico una bomba veniva inserita nel tubo la sua carica propellente colpiva un perno sul fondo del tubo e detonava la bomba era lanciata in aria le alette sul fondo la mantenevano stabile mentre saliva in alto e quindi cadeva sui nemici il mortaio essenzialmente forniva alla fanteria la sua artiglieria era leggero e trasportabile uno o due uomini potevano spostarlo le sue bombe ad angolo elevato potevano penetrare nelle trincee e aveva una grande capacità di fuoco una dozzina anche una ventina di bombe in un minuto sebbene non così preciso come l'artiglieria la sua portata di fuoco compensava e soprattutto era nelle trincee con la fanteria e poteva servire sempre è un'arma molto semplice infatti non c'è un meccanismo di rinculo si lascia cadere la bomba che spara quando colpisce un perno c'è una carica esplosiva sul fondo e la bomba cade nel tubo colpisce il perno spara e va su di nuovo la base poggiata sul terreno assorbe il rinculo di solito non è un oggetto molto grande un proiettile da 8 centimetri può essere sparato molto velocemente lo si lascia cadere nella canna ci si tappano le orecchie con le mani c'è lo sparo ed è finito si può lasciar cadere il prossimo quindi si può arrivare ad un massimo di 20 forse 30 sebbene sia un po' esagerato ma certamente 20 al minuto per cui si può effettuare un tremendo bombardamento di un'area qui non c'è l'artiglieria della fanteria ma il sistema di bombardamento 20, 30, 40 o 50 di questi in uno spazio relativamente ristretto producono una serie di tremende esplosioni e coprono una grande area mortai e razzi hanno questo in comune entrambi hanno bisogno della polvere da sparo per essere sparati ma c'è un modo più vecchio e semplice per farlo è la forza dei muscoli si getta l'esplosivo verso il nemico l'idea di lanciare qualcosa un bastone o una pietra contro un nemico risale all'età della pietra l'invenzione della polvere da sparo gli ha dato un nuovo slancio perché non gettare quantità di polvere esplosiva contro il nemico l'esplosione colpirà con più violenza di una pietra e procurerà un danno simile allo sparo nasceva la granata all'inizio questa sembrava un'arma improbabile non c'è polvere di percussione fino al XIX secolo e di conseguenza nessuna detonazione all'impatto invece la miccia doveva essere accesa durante la battaglia e il fuoco deve trasmettersi fino alla polvere da sparo per esplodere contrastando il vento nel percorso e il tonfo nell'arrivo le granate erano usate come arma da impatto una pioggia improvvisa di bombe esplosive lanciate in faccia da un nemico a soli 10 o 20 metri poteva disorientare un'intera fila di moschetti che una carica seguente poteva sconfiggere nacquero i granatieri truppe specializzate nel lanciare le bombe poiché serviva un fisico forte erano di solito uomini possenti crescendo da semplice compagnia battaglione presto formarono dei battaglioni propri e poi un reggimento completo erano considerati un'elite tra le truppe d'assalto e mantenero questa impronta di eccellenza perfino quando nel XIX secolo lanciare le bombe iniziò ad essere considerato primitivo e obsoleto sembra che stessero per uscire di scena nel XIX secolo perché stavano arrivando armi più efficaci c'è il fucile dallo sparo veloce poi la mitragliatrice e soprattutto l'artiglieria che si evolve dalle semplici palle di cannone ai veri proiettili le granate sembrano armi molto limitate vecchio stile e piuttosto inefficaci molti eserciti le abbandonarono nel XVII secolo è interessante notare che i tedeschi le tennero non è chiaro se credevano veramente in esse o se erano soltanto riluttanti a buttare un'arma che era parte dell'esercito succede spesso che quelle che definiamo armi efficaci lo sono più a causa di particolari circostanze piuttosto che per il loro valore intrinseco ancora una volta fu la guerra di trincea del 1914 1918 a salvare quest'arma dall'oblio i soldati dovevano attaccare senza esporsi al fuoco nemico e i soldati inglesi si ridussero a gettare bombe improvvisate in barattoli di marmellata prima della dotazione di granate numero 5 nel maggio 1915 progettato da W. Mills di Birmingham divenne noto come bomba Mills ed è probabilmente la più efficace bomba a mano vista in servizio fino agli anni 70 dalla forma ovale facile da maneggiare pesava circa tre etti e poteva essere lanciata fino a 30 metri di distanza un perno di sicurezza la rendeva innocua finché il perno non veniva rimosso attivando un pistone a molla che dopo 5 secondi colpiva il detonatore e la granata esplodeva l'esterno era segmentato per migliorare la frammentazione quindi fu soprannominata Ananas le granate erano così utili nella guerra di trincea che furono sviluppati nuovi progetti mentre ogni nazione produceva il suo modello la granata tedesca fu conosciuta dalla sua comparsa come schiacciapatate ed era una granata dotata all'estremità di un bastoncino per migliorare la lunghezza del lancio le prime granate erano di due tipi quelle che esplodevano all'impatto e quelle che si accendevano il problema di quella che esplode all'impatto sta nel fatto che se cade o se si maneggia male esplode mentre una granata che brucia è più efficace un soldato è più tranquillo nell'usarla può accenderla o lasciare che si accenda contare qualche secondo e poi lanciarla così da essere sicuro che esploderà nella caduta è molto importante ai soldati veniva detto di lanciare la granata nello stile dei lanciatori di palle e ci sono dei quadri stupendi di persone che provavano i lanci del cricket se si è il modo migliore per lanciare una granata non lo so gli australiani a Galipidi affermavano che migliorava la loro tecnica di lancio non so se fossero solo dicerie quello era il metodo standard il metodo militare di lanciare una granata la posizione da lanciatore con il braccio ben teso tutte le nazioni modificarono le granate per spararle con un fucile ma sebbene questo aumentasse il raggio d'azione fino a 400 metri non migliorava la precisione il manuale d'addestramento parlava della granata come arma ausiliare ma nella prima guerra mondiale era così usata che gli osservatori americani pensarono che i soldati inglesi e francesi fossero dotati solo di granate mortai e mitragliatrici il fucile a granata è l'arma del momento è qualcosa che si cerca di sviluppare adesso perché l'attuale generazione di armi individuali abbina sempre più un fucile d'assalto ad un lancio a granate questo risale al lancio a granate americano M203 e al fucile d'assalto M16 quella combinazione dà ad un Fante un'ampia gamma di possibilità in ogni situazione in cui ci si può trovare può sparare un semplice colpo preciso può avere un fuoco automatico e ha un'arma aerea può lanciare una granata e queste granate possono essere di tipi diversi possono essere contro la persona fumogene di segnalazione e così via forniscono al singolo soldato un'aggiunta molto utile al suo equipaggiamento questo risale alla prima guerra mondiale ai primi fucili lancia granate e ai tentativi di lanciare le bombe come erano chiamate più lontano di quanto un uomo non potesse fare quindi questa è un'arma che inizia ad emergere durante la prima guerra mondiale e stiamo parlando di cose senza precedenti la novità principale era che la granata veniva lanciata separatamente dalla canna dell'arma l'idea è quella di combinare le due cose alternativamente ma per lanciare una granata è più semplice quando si ha un'arma da ricaricare automaticamente perché se si deve scaricare l'arma posizionare nuovi pezzi e poi lanciare ci sono dei problemi la risposta di gran lunga più efficace sembrava essere il lancia granate separato per questo l'esercito inglese aveva ideato questo lancia granate come parte della serie sa 80 la seconda guerra mondiale provocò un'altra gara di inventiva e furono prodotte granate per diffondere fumo o gas lacrimogeni per segnalazioni per stordire ma non per uccidere o con una carica adattata per attaccare un carro armato come per i mortai i guerriglieri e i terroristi avevano prodotto la loro versione la nail bomb nonostante la loro utilità nei combattimenti in trincea le granate generalmente potevano essere pericolose tanto per il lanciatore che per il bersaglio perché il raggio d'azione è generalmente maggiore della distanza alla quale si può tirare le granate ad azione ritardata potevano implicare che un nemico coraggioso potesse tirare indietro la granata la granata è un'arma aerea è l'opposto di un fucile un proiettile di fucile è mirato contro un preciso bersaglio la granata non lo è è usata quando non si è sicuri del bersaglio quando si vuole neutralizzare una zona e distruggere diversi nemici in una volta per essere efficaci le granate devono avere abbastanza carica per poter arrivare contro l'avversario senza però che questi possa tirarle indietro è teoricamente possibile che qualcuno che sia estremamente coraggioso ne prenda una e cerchi di tirarla indietro ma è molto fortunato se ci riesce perché si parla di circa 4 secondi e mezzo per cui le possibilità maggiori è che si prenda proprio nel momento in cui esplode gli esplosivi sono una vecchia arma da combattimento ma il fuoco lo è ancora di più gli assiri attaccavano le città con il fuoco i greci sperimentarono il modo di lanciarlo il fuoco difese Bisanzio dai turchi e gli ottomani avrebbero avuto un primitivo lanciafiamme i veri lanciafiamme furono prodotti comunque nel ventesimo secolo nel 1906 un prototipo fu sviluppato in Germania da Richard Fiedler e l'esercito del Kaiser aveva un reggimento di lanciafiamme nel 1912 nella sua forma trasportabile da un uomo il lanciafiamme era un cilindro contenente una mistura di petrolio e olio che era spinta fuori da un beccuccio dal gas nitrogeno ad alta temperatura una cartuccia di magnesio era usata per accenderla fu usato per la prima volta dalle truppe tedesche contro Inghilterra e Francia nel 1915 una cosa da apprezzare nel lanciafiamme è che non gettava una fiamma non si trattava di una fiamma ma di una miscela bruciante di olio come risultato se lanciato contro un edificio non colpiva e si fermava ma si spandeva intorno all'edificio si poteva spargere dentro l'edificio negli ingressi l'olio si sarebbe allargato e diffuso era più di una semplice fiamma era un getto di olio bruciante che raggiungeva angoli e crepe questo lo rendeva molto più efficace di una semplice fiamma un lanciafiamme era una terribile arma di terrore non credo che nessuno vorrebbe trovarsi davanti a un nemico che lo usa e senza dubbio è un'arma spaventosa essere investito dall'olio rovente è un modo terribile di morire sebbene fosse un'arma spaventosa il lanciafiamme aveva i suoi limiti era un'arma a corto raggio che raggiungeva solo i 30-40 metri la sua durata era limitata a circa 10 secondi di fuoco e quando veniva usata provocava un colpo che avrebbe spostato chi non ne era consapevole era pesante e grosso faceva sentire l'operatore molto goffo e un proiettile vagante poteva detonare la mistura e trasformare chi lo usava in una torcia umana e nessun soldato lanciafiamme poteva aspettarsi pietasse e catturato ma era molto efficace contro posizioni fortificate e bunker e nel pacifico durante la seconda guerra mondiale era l'unica arma che potesse stanare i fanatici difensori giapponesi classificata come arma morale senza dubbio aumentava la fiducia da una parte e produceva il terrore dall'altra dopo la seconda guerra mondiale la mistura di petrolio del lanciafiamme fu affiancata da un'arma peggiore il napalm era un gel di petrolio con degli additivi di alluminio che si incendiava spontaneamente seggettato dall'aria produceva un muro di fiamme che consumava persone e armi senza distinzione e poteva continuare a bruciare le carni anche se la persona si gettava in un fiume non c'era modo di farlo lanciare da un lanciafiamme singolo a terra e poiché il napalm era più efficace il lanciafiamme aveva i giorni contati ma le armi sono raramente dimenticate e il lanciafiamme potrebbe riapparire come fecero le granate dipende dalle circostanze è impossibile dire quale richiesta sarà posta dai conflitti futuri l'ultima arma ausiliare del soldato comune è in qualche modo la più vecchia la baionetta è semplicemente un coltello d'acciaio e quindi è un discendente del coltello di pietra dell'età della pietra cosa ci fa un'arma preistorica tra le attuali armi da sparo ultramoderne rappresenta come molti sospettano un esempio del pensiero conservatore dei militari non sembra servire a molto su di un campo di battaglia meno dell'1% delle ferite curate dai chirurghi militari sono inflitte dalle baionette ma non c'è dubbio che quando le baionette apparvero tre secoli fa rispondevano a un bisogno reale non c'è dubbio che le baionette nacquero come armi di difesa servivano a difendere il soldato che non aveva l'arma carica ma da arma di difesa divenne presto arma di offesa con la baionetta montata le truppe potevano caricare contro il nemico potevano attaccare e diventava un'arma di offesa i moschettieri del tempo impiegavano così tanto tempo per ricaricare le loro armi che erano vulnerabili agli improvvisi attacchi della veloce cavalleria avevano bisogno di alcuni uomini con le lance tra i loro ranghi per fermare i cavalieri ma più lance significavano meno moschetti ed erano i moschetti a determinare le battaglie vincenti la soluzione venne da baionette nel sud-est della francia all'inizio del XVII secolo una parte dei moschettieri furono sorpresi dai cavalieri e nella disperazione sembra che adattarono i coltelli nelle canne dei moschetti e respinsero gli attaccanti con queste lance improvvisate l'idea colpì e presto lame di 90 cm furono adattate ai moschetti lo svantaggio di ciò fu subito evidente se il moschetto veniva tappato non poteva sparare più quindi alla base dello stiletto fu attaccato un anello che si agganciava intorno alla canna così fu creata la baionetta rimovibile ora se lo si inserisce si cerca di farlo restare fermo per minacciare la cavalleria e il passo seguente fu quello di pensare ad una baionetta rimovibile la risposta era abbastanza semplice c'è un coltello ma alla fine è attaccato un anello che scivola sull'esterno della canna e si aggancia così si ha una baionetta d'anello dopo di ciò si tratta soltanto di decidere quale lunghezza e forma si voglia dare alla propria baionetta la forma e la lunghezza della baionetta cambia con il tempo la lama diventa più ampia così da somigliare ad una lancia e la lunghezza va dai 50 cm inglesi della seconda guerra mondiale ai piccoli coltelli attuali di soli 15 cm ma per tutto il XVIII e XIX secolo rimase parte essenziale dell'equipaggiamento divisi in squadre i moschettieri del duca di Wellington tenevano alla larga la cavalleria di Napoleone quando la incontravano e alla fine del XIX secolo le baionette inglesi furono puntate più di una volta contro gli Zulu quando scoppiavano le rivolte e nella prima guerra mondiale le squadre che combattevano nelle trincee erano formate da un gruppo consistente di lanciagranate e un altro gruppo con le baionette per finire il nemico c'è qualcosa di più personale nella minaccia di una baionetta che non nella minaccia di un proiettile un proiettile è impersonale è invisibile ma una baionetta da 50 cm è molto più concreta ed è qualcosa che puoi distinguere sempre più chiaramente quando avanza verso di te ecco ciò che succede in questo tipo di combattimenti ravvicinati una parte decide di colpire per prima l'altra parte ha la possibilità di decidere se affrontare lo scontro oppure rinunciare è la prerogativa di questo tipo di combattimenti la baionetta è obsoleta alcuni eserciti non lo pensano ci sono modelli di Kalashnikov con una baionetta incorporata può essere ripiegata sotto la canna se necessario e nessun soldato della seconda guerra mondiale che combatte i giapponesi dimenticherà le loro terrificanti cariche con le baionette ma è più di questo è un'arma di occultamento per affrontare le sentinelle di pattuglia è un'arma da ultima possibilità quando le pistole si inceppano o finiscono le munizioni nella confusione di una battaglia notturna o ravvicinata la baionetta può essere preferita al proiettile perché brutalmente con la baionetta puoi vedere chi stai uccidendo la precisione mortale della baionetta forse spiega perché sembra infliggere poche ferite i nemici morti non sono visitati dai chirurghi dell'esercito la baionetta può essere giustificata anche con ragionamenti psicologici quando apparvero i fucili a lunga gittata i generali si preoccuparono che le truppe avrebbero potuto sparare tutto il giorno a distanza esaurendo i proiettili con scarsi risultati le battaglie potevano essere vinte solo avvicinandosi al nemico e dotare le truppe di baionetta sembrava un modo per ottenere questo la baionetta è per eccellenza l'arma da distanza ravvicinata ugualmente quando i generali videro l'aumento del potere di fuoco creato dalla moderna artiglieria e dalle mitragliatrici si accorsero che le truppe dovevano essere motivate ad attraversare la zona di fuoco il più velocemente possibile ancora la risposta sembrava essere addestrarli ad usare le baionette per i combattimenti ravvicinati inoltre molti ricordano che l'ordine di fissare le baionette aveva il potere di riscuotere i soldati la battaglia era molto vicina ora i Seng si erano allerta l'adrenalina scorreva presto avrebbero ucciso o sarebbero stati uccisi e si abbracciavano per molti era l'ultimo momento di lucidità prima che la nebbia della battaglia li avvolgesse furono create numerose forme di baionetta ad arpione o a asta si tentò questo genere di cose oggi abbiamo una baionetta che è semplicemente un coltello cose come tagliaferro sono state incorporate nelle baionette per tentare di aumentare la loro utilità credo che qualsiasi cosa succeda il soldato abbia bisogno della baionetta come ultima possibilità è sempre lì è rassicurante sono sicuro che dà l'impeto per andare avanti a ingaggiare un corpo a corpo con il nemico c'è una forza propulsiva nell'avere una baionetta ed è la ragione per cui non sarà mai abbandonata è sempre stata incorporata nelle armi anche quelle di grande portata di fuoco armi efficaci quando in teoria doveva essere un'arma obsoleta queste armi di supporto colpiscono per la loro diversità ma anche per la loro antichità in teoria o in pratica tutte hanno degli antenati di centinaia di anni fa le due guerre mondiali del ventesimo secolo crearono molte nuove armi da guerra ma non dettero ai fanti nessun'arma totalmente nuova invece fornirono lo stimolo vitale per reinventare quelle vecchie è un punto che terremo a mente quando pensiamo per la loro Grazie a tutti.